In questo video vedremo come rendere più solidi e sicuri i nostri programmi introducendo alcune tecniche di error handling. Buona visione! A differenza di altri linguaggi il Perl non utilizza un sistema di gestione degli errori predefinito ma ci offre invece diverse tecniche di controllo. Passiamo quindi a vedere le più utilizzate. Iniziamo dalla tecnica error handling by return ovvero la gestione degli errori per ritorno. Come sapete le subroutine generalmente una volta eseguite ci restituiscono un valore ed è proprio basandosi su quel valore che andremo a stabilire se un'operazione si è conclusa con successo o se invece qualcosa è andato storto. Ma passiamo come al solito all'esempio. Come vedete all'inizio dello script ho assegnato alla variabile return l'operazione di apertura in input del file prova. Quindi cosa verrà salvato all'interno della variabile return? Il ritorno della funzione open. E quali sono i valori di ritorno della funzione open? Scopriamolo insieme. Se andiamo su perldoc.pearl.org che sarebbe niente po po di meno che il sito di documentazione ufficiale del Perl e cerchiamo il ritorno della funzione open troviamo che questa funzione restituisce non 0 quindi probabilmente 1 in caso di successo e undefined value quindi undef in caso di fallimento. Bene ora che sappiamo ciò torniamo all'esempio. Ora che sappiamo i possibili ritorni di open possiamo gestire tutto. Sappiamo che in caso di fallimento la funzione open restituirà undef quindi basterà una semplice struttura if else per gestire tutti gli eventuali errori. Nel blocco if si esegue il controllo sulla variabile return. Se il suo valore è false vuol dire che qualcosa è andato storto e si stampa in output un generico messaggio di errore. In caso contrario quindi in caso di successo si stampa invece in output il contenuto del file aperto in input e infine si chiude il felendol. A questo giro forzeremo il fallimento di open indicando come sorgente di input un file non esistente ovvero in questo caso il file prova. E seguiamo lo script e infatti come previsto abbiamo uno warning che ci avverte che stiamo utilizzando una variabile non inizializzata ovvero return. Dopodiché la stampa del valore di return che come ci aveva avvisato lo warning risulta nulla ed infine il nostro messaggio di errore. Questa volta comportiamoci invece come brave persone e lasciamo che la funzione open esegua le sue operazioni senza problemi. Rieseguiamo il tutto e in output troviamo il valore della variabile return che questa volta è 1 poiché non vi sono stati i problemi e successivamente il contenuto di xfile. Ancora un altro esempio simile ma utilizzando la funzione chdir. chdir sta per changedir e serve per l'appunto a cambiare la cartella di lavoro corrente. Questa funzione restituisce true in caso di esito positivo altrimenti false. Nell'esempio si procede utilizzando la stessa identica logica vista nell'esempio precedente. Si salva il ritorno della funzione chdir all'interno della variabile return e si effettua un controllo su quest'ultima. Se risulta false quindi se l'operazione non è andata a buon fine si stampa in output il messaggio d'errore. Se invece fila tutto liscio si stampa un messaggio di notifica e successivamente il path della directory corrente attraverso la funzione cvd. La funzione cvd che sta per current working directory è stata resa disponibile dopo aver importato il relativo modulo cvd all'inizio dello script. Alla prima esecuzione si esegue lo script passando la cartella docs come parametro alla funzione chdir. eseguiamo quindi lo script e abbiamo in output il valore di return ovvero 1 la nostra notifica e il percorso della nostra cartella corrente che come potete vedere porta alla cartella nella quale ci siamo spostati ovvero docs. Proviamo ora ad eseguire lo script tentando di spostarci in una destinazione non valida. Come potete vedere il valore di return è 0 ovvero false e successivamente troviamo il nostro messaggio di errore. Passiamo al metodo successivo ovvero la gestione degli errori tramite la funzione DAI. Questa funzione si comporta in modo diverso a seconda di come viene utilizzata. se si utilizza insieme alla funzione eval che vedremo a breve salva l'eccezione sollevata all'interno della variabile speciale chiocciola. Se invece come in questo caso si utilizza al di fuori di eval l'eccezione così sollevata viene stampata direttamente in output via stdr interrompendo immediatamente l'esecuzione dello script. Nell'esempio si tenta di spostarci in cartella x che non esiste tramite la funzione chdir e subito a fianco troviamo la forma or die seguita dalla stringa contenente il messaggio di errore che verrà stampato una volta sollevata l'eccezione. Eseguiamo lo script e vediamo che succede. In output abbiamo il nostro messaggio di errore con in aggiunta l'indicazione relativa al nome dello script e alla riga dove si è verificato l'errore. Da notare che l'istruzione successiva dove si stampava il nostro path corrente non è stata eseguita poiché come abbiamo detto la funzione die solleva l'eccezione e successivamente forza l'interruzione dello script. Infatti se al posto di cartella x cerchiamo di spostarci invece nella cartella docs che invece esiste non viene sollevata alcuna eccezione poiché l'operazione si è conclusa correttamente e viene stampato regolarmente in output il nostro path corrente. Ed eccoci arrivati alla funzione di gestione degli errori più elastica ma allo stesso tempo alla più pericolosa che il perl ci mette a disposizione ovvero eval. La funzione eval è utilizzabile in due forme ossia eval expr ed eval block. Io direi di partire con eval block. La forma block di eval esegue il parsing sugli elementi contenuti all'interno delle parentesi graffe controllando se vi sono errori e qualora ne trovasse uno viene catturato ed inserito all'interno della variabile speciale chiocciola. Nell'esempio si inserisce all'interno del blocco eval l'espressione x uguale 10 diviso 0. Ovviamente non essendo un'operazione valida verrà sollevata un'eccezione che verrà prontamente catturata ed inserita all'interno della variabile speciale chiocciola. Da notare che dopo aver chiuso le parentesi graffe di eval ci vuole il punto e virgola. Successivamente si prosegue effettuando un controllo sulla variabile speciale chiocciola. Dovete sapere che di default questa variabile ha come valore predefinito undef. Quindi se il blocco eval come in questo caso trova qualcosa il valore della variabile speciale chiocciola non può essere undef poiché conterrà l'eccezione catturata da eval. Quindi se il valore della variabile speciale chiocciola è true quindi se è stato trovato un errore si stampa in output la stringa errore più l'eccezione contenuta nella variabile speciale chiocciola. Altrimenti si stampa in output la variabile x. Eseguiamo lo script e vediamo che succede. Infatti abbiamo in output la stringa errore più eccezione ovvero in questo caso il legal division by zero. Ma attenzione perché eval non blocca automaticamente l'esecuzione del programma una volta sollevata l'eccezione bensì si limita solamente a catturarla. Ho modificato leggermente lo script aggiungendo semplicemente la stampa della stringa continua dopo la struttura iffels per mostrarvi come l'esecuzione dello script prosegua senza alcun problema. Eseguiamo quindi il tutto e in output abbiamo infatti la stringa errore più eccezione e successivamente la stringa continua. Si può interrompere l'esecuzione del programma attraverso la funzione exit. E beh non c'è molto da dire su exit infatti questa funzione forza semplicemente l'interruzione dello script. Eseguiamo quindi di nuovo il tutto e in output abbiamo solamente la stringa errore più eccezione poiché l'esecuzione dello script è terminata subito dopo la stampa di quest'ultima grazie alla funzione exit. Un altro metodo per interrompere l'esecuzione dello script una volta sollevata l'eccezione è quello di utilizzare in combinazione con eval la funzione die. Infatti come abbiamo detto la funzione die termina automaticamente l'esecuzione dello script una volta stampata la stringa passata come argomento. Eseguiamo quindi di nuovo lo script ed anche qua andiamo a terminare il programma. Da notare che la funzione die salva all'interno della variabile speciale chiocciola la stringa passata come argomento. È perfettamente lecito pure inserire la funzione die all'interno di una struttura if else. Solito risultato ma forma assai meno elegante. Ultimo trabocchetto prima di salutarci. Attenzione perché la variabile speciale chiocciola è una variabile globale quindi è soggetta ad essere involontariamente sovrascritta. Nell'esempio utilizzo consecutivamente due blocchi eval e alla fine di ciascuno stampo in output l'errore catturato nella variabile speciale chiocciola. E guardate un po' cosa succede in output. Il contenuto di chiocciola viene sovrascritto e quindi all'interno di essa troveremo l'errore catturato dall'ultimo blocco eval ovvero in questo caso illegal modulos zero. Ciò potrebbe risultare particolarmente insidioso se si volesse ad esempio isolare un determinato tipo di errore. Nell'esempio si cerca di isolare l'errore relativo alla divisione per zero ma effettuando il controllo dopo il secondo blocco eval non troveremo alcuna corrispondenza poiché la variabile chiocciola conterrà al momento del controllo l'eccezione sollevata dall'ultimo blocco eval ovvero illegal modulos zero. Infatti in output abbiamo tutto a posto quando alla fine tutto a posto non è. Bene direi che anche per questo video è tutto. Per qualsiasi domanda vi invito come al solito a lasciare un commento. A risentirci!